Tendenzialmente tutte le regioni che hanno a che fare con l'arco alpino e con l'appennino possono fregiarsi appunto di avere dei vigneti eroici a tutti gli effetti, quindi la viticoltura eroica diventa parte integrante proprio della cultura regionale. Non fa eccezione la Lombardia, in cui oltre la Valcamonica, che comunque rientra appunto all'interno della definizione classica, troviamo l'altra regione italiana vitivinicola, quindi l'altro areale più importante in assoluto quando parliamo di Roy. Stiamo parlando della Valtellina. La Valtellina quindi siamo a nord di Milano, in un ambiente unico sotto ogni punto di vista. Se dovessimo guardare e analizzare proprio le condizioni climatiche, le condizioni della natura, pensare a un'agricoltura, una viticoltura florida qui diventerebbe praticamente impossibile. Abbiamo delle altitudini che rispetto ad altri territori tendono ad essere un po' più basse, quindi andiamo dai 300 ai 700 metri di altitudine, però il 95% dei vigneti rientrano fondamentalmente nella definizione di vigneti eroici. Quindi gran parte della Valtellina, quasi la sua totalità, è improntata proprio al sacrificio. Ci sono 2500 chilometri di muretti a secco. Questa è la zona in Italia con il più alto numero di muretti a secco. Considerate che i muretti di questo tipo, quindi senza l'utilizzo di cemento, senza l'utilizzo quindi di questi leganti, diventano dei muretti che vanno mantenuti in continuazione e quindi il dispendio anche economico è molto elevato. In più questi muretti a secco, questi terrazzamenti, rivestono un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'evitare eventuali smottamenti, dato che la Valtellina è caratterizzata da piogge continue durante tutto l'arco dell'anno, mai troppo abbondanti, ma che comunque potrebbero andare a creare dei fenomeni diciamo non molto simpatici per quanto riguarda non soltanto la viticoltura ma l'esistenza stessa dell'uomo in zona. Quindi c'è proprio l'obbligo di tenere i vigneti attivi, di fare manutenzione continua dei muretti anche per salvaguardare quello che è proprio lo sviluppo anche urbano a valle. Non si riescono ovviamente ad avere delle cantine in quota e le cantine si trovano quasi tutte nella parte bassa e che vuol dire che anche il modo di andare a vendemmiare qui è un modo difficile. La vendemmia si svolge principalmente nel mese di ottobre, la cosa incredibile però è quello che è il vitigno principale perché per quasi 100% il vitigno che viene utilizzato nei vigneti eroici della Valtellina è il nebbiolo, qui chiamato Chiavennasca, che è un vitigno tardivo per definizione, che non ama così tanto la montagna e quindi dobbiamo anche cercare di capire quali sono le opportunità che questa viticoltura eroica ci permette. Il nebbiolo qui si è adattato e si è evoluto in una situazione di quasi isolamento quindi oggi Chiavennasca è molto differente dal nebbiolo come noi intendiamo classicamente. I vini che si ottengono sono effettivamente di montagna, sono ancora più scarichi, con tanta freschezza e un tannino molto più delicato e molto meno presente rispetto a quelli per esempio delle Langhe. Quindi ci sono delle caratteristiche che la viticoltura eroica con il suo isolamento può effettivamente portare, quindi uno spirito di adattamento da parte del vitigno altissimo. Qua appunto il nebbiolo è il protagonista assoluto fino a due secoli fa fondamentalmente, ma in realtà fino a quasi la seconda guerra mondiale, si tendeva ad avere un tipo di agricoltura promiscua. Quindi in mezzo ai filari di vigna poi si trovavano anche altri tipi di colture. Il sistema di potatura qua è un'arte perché si parla di archetto valtellinese, in più si fanno sempre potature molto delicate per non impattare sulla pianta. Infatti la valtellina evidenzia nel suo essere eroico un altro aspetto, ovvero quello di agricoltura che viene tramandata anche oralmente, quindi ha un rapporto quasi generazionale. Ci sono famiglie che si alternano proprio nella gestione stessa di questi appezzamenti. Parliamo ovviamente di piccole aziende principalmente, l'artigianalità è l'aspetto fondamentale. Pensate che in vigna si va a lavorare zappa la mano, quindi questo ci fa anche capire quante ore uomo richieda proprio la valtellina, che infatti può vantare il primato, positivo o negativo, non sta a noi dirlo, però dell'altissimo livello di ore uomo, che sfiorano anche le 1600 ore uomo ad ettaro, che è un valore altissimo su un anno. I costi per andare a produrre vini qua sono clamorosi, però il risultato, e la valtellina ci evidenzia anche questo, quanto la viticoltura eroica possa poi portare un risultato qualitativo, incredibile all'interno proprio del bicchiere e quindi viene premiato in questo modo ovviamente tutto il sacrificio. La vendemmia appunto che inizia ad ottobre viene fatta generalmente portandosi, pensate, delle scatole quasi a zaino di legno all'interno delle quali viene posizionata l'uva e poi si scende attraverso dei gradini decisamente impervi, perché comunque le pendenze diventano importanti, verso valle, quindi verso i trattori che poi avranno accesso alle strade che porteranno verso le cantine di vinificazione. La viticoltura qui poi si estende principalmente su quelle che è il versante delle Alpi Retiche, quindi che guarda sud, dove però le Alpi Orobiche, che sono all'opposto proprio, che si guardano con le Alpi Retiche, rappresentano un valore fondamentale per evitare troppa ventosità, nonostante la componente di vento in valtellina sia fondamentale sia continuativa. C'è poi il gioco rappresentato dal Lago di Como che permette di mitigare un po' quelle temperature che altrimenti sarebbero veramente proibitive per una viticoltura di qualità. Abbiamo poi il gioco anche portato avanti proprio dalle Alpi Retiche stesse che vanno a proteggere dai venti freddi del nord. Quindi una serie di componenti che permettono ai tanti viticoltori della Valtellina di andare a fare dei vini di qualità incredibile anche con un vitigno difficile come il Nebbiolo. In questa zona il suolo è caratterizzato poi dalla bassissima presenza di calcare e questa è un'altra caratteristica di unicità. Infatti abbiamo anche questa tendenza allo smottamento che poi va evitata anche con delle densità di impianto che a volte sono un po' più elevate rispetto a quelle che siamo abituati ad incontrare in alcuni siti di viticoltura eroica. È un mosaico di vigneti la Valtellina ma allo stesso tempo la natura comunque trova sempre il suo spazio. La zona è diventata così ampia, più che altro parliamo sempre di zone piccolissime, però ampia nella sua estensione e tocca più altitudini, tocca dei versanti anche leggermente differenti, tanto da meritare addirittura la denominazione di 5 sottozone. Quindi non ci dobbiamo stupire quando possiamo andare ad interpretare anche quelli che sono valori differenti. Questa è grazie a dei produttori eroici che vanno dai più famosi tipo Nino Negri, Cantinar Pepe per citarne un'altra. Abbiamo Reinaldi oppure se qualcuno è amante del vino naturale possiamo citare Di Rupi oppure Barbacan, ma sono tantissimi gli interpreti della Valtellina. Forse nella viticoltura eroica è il territorio che ha avuto il maggior successo negli ultimi anni anche grazie alla grandissima freschezza che i vini sono in grado di esprimere.